Ha chiesto l'aspettativa per il ruolo da direttore del Museo di Capodimonte di Napoli, Eike Schmidt. Vista la sua candidatura al sindaco di Firenze per le prossime elezioni, per le quali concorrerà con il centrodestra, ha presentato ufficiale richiesta al Ministero della Cultura, che dovrà decidere nei prossimi giorni. L'ex direttore degli uffizi il prossimo weekend sarà già in forza a Firenze, il lancio della sua campagna elettorale atteso a breve. Intanto in campagna non sono pochi a sorcere il naso, vedendo Napoli essere trattata come ultima scelta. Se va male a Firenze allora c'è il posto sicuro del capoluogo campano. Ad ogni modo è un diritto del neodirettore del Museo di Capodimonte di candidarsi e di chiedere l'aspettativa, ma il primo a criticare la situazione è stato il governatore della regione, Vincenzo De Luca, che ha definito la vicenda un'offesa per la città e per il mondo della cultura.